Ceferin, tutto sbagliato per la Juve, niente affetto per Agnelli. Negreira Barca, uno dei casi più gravi. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Alexander Ceferin a Barcellona nel mirino, e non solo. Dopo l'apertura della scorsa settimana dell'indagine della UEFA sulle caso Negreira, il caso di corruzione per il quale è stato indagato Barcellona, il presidente della Confederazione Europea ne ha parlato molto chiaramente in un'intervista al quotidiano sloveno Equipa. Le parole del presidente UEFA sono un avvertimento al Barca e seguono da vicino le parole del presidente della Lega, Avier Tebas. UEFA-indagine che il caso Negreira rappresenta una delle situazioni più gravi che abbia mai visto, ha detto Ceferin. A livello della Lega spagnola il caso è prescritto e quindi non può avere conseguenze sportive. Tuttavia, i procedimenti civili sono in corso presso il Tribunale spagnolo, e non vi è nulla prescritto per la UEFA. Non posso dire molto di più per due motivi, perché c'è una commissione UEFA che indaga sulla questione e perché non conosco tutti i dettagli del caso, ma posso aggiungere che ho controllato e la situazione è estremamente grave. Il caso Negreira sarà discusso nel Comitato Esecutivo Federale previsto per dopodomani a Nyon. Ceferin ha anche nuovamente condannato la Super League, un progetto che è ancora in piedi solo per l'interesse dei giornali e l'ego di alcune persone coinvolte. Stanno cercando di fare qualcosa solo per migliorare la loro posizione in un possibile negoziato con noi, ma non hanno capito che non c'è nulla da affrontare. Ho accettato di incontrare la loro agenzia rappresentativa, A22 Sports, e ho invitato i rappresentanti dei club e dei fan a partecipare. Karl-Heinz Rummenigge è stato chiaro, questo è il tuo Waterloo per te, gli ha detto l'allenatore del Bayern. Agnelli, Ceferin ha parlato anche di Andrea Agnelli, ex presidente della Juve, la storia dei bianconeri doveva finire così come è finita. Perché tutto era sbagliato. Non ho nessun rapporto di cura con. Ciao! 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 Grazie a tutti.